Finalmente è arrivato il mio nuovo shop online, www.xuder.it, dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, www.xuder.it. E adesso, video! Let's go! Easy! Aia, 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 aia! Ne manca una! Ne manca solo una. Prendo questo mouse, apro la porta, lo scaravento con violenza all'esterno. Go, 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 imposti molto stop. Eh, la corona, raga. Potete anche arrendervi tutti, questa qua è la mia corona, mi dispiace. Minchia le palle! A me mi girano le palle, possibile che tu stai sempre bene? Mi sa, ti gonfiano le palleie. Vai, 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 vai! Ce la mettiamo tutta. Potrebbe esserci in mezzo la barra. Se la barra centrale ci fosse, la situazione sarebbe molto a safardel sgroden. Sgroden. Allora, uva, uva ciliegia, dai. Uva, uva, uva c***o, c'è la frutta. What the fuck? Uva ciliegia. Questo è un problema. No, raga. Sono sulla ciliegia. Oh, merda. Bene, bene, bene. Bene, ma bruttissima. Arancia, mela, ciliegia, anguria, mela, arancia. Ciliegia, anguria, mela, arancia. Ciliegia, banana, uva, mela. Oh, c***o. Ehm, oh, f***. Mela, banana, anguria, ci si trova. Mela, banana, anguria, ci si trova l'anancia. Mela, banana, anguria, ci si trova l'anancia. Mela, banana, anguria, ci si trova l'anancia. C'è andata bene, c'è andata bene, c'è andata bene, c'è andata bene. Tutto ok. C'è ancora vivo il frutta. Roll out. Due survival di fila. Questo è bruttissimo, dai, speriamo che finisca veloce. Mi sto spaventando, raga, piano, piano. Il muro, il muro, il muro. Ok, god. 13 giù. Let's go. Let's go, raga, let's go. Era facile. Non è la frutta, la frutta, raga, ti fotte. Questa è tosta, eh. Questa è proprio tosta. Qua siamo in 21, ne passano 13, 14. Eh, questo è bastardo. Poi la fine è tutta giusta. Dai. Let's go. Let's go. Let's go. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Con molta calma. Aia, aia, aia. È andato. È andato god. È andato god. E io dovevo griffare un pochettino. Andava griffato. Ciao, super king. Ciao bello. 19. Ed è un tiptoe. Così. Un po' di ignoranza a caso. Gratuita. Gratuita. Dentro in otto. Ok. Oh, cosa mi hanno fatto cadere? Ragazzi, ragazzi. Vai, è qua per forza. Spartan Mike 06. 15 mesi. Secondo me è questo. Let's go. Aia, 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 aia. C'è frat che è andato. Il frat se n'è andato. Non ritorna più. Signori, attenzione. Attenzione, attenzione. Cosa? No, vabbè, dai. No, vabbè, dai, raga. C'è il gioco che sta facendo di tutto per non farmi prendere la corona. Oh, raga, questa è brutta, eh. Questa è brutta. No. No. Oh no let's go ciao Gino ciao bello quanto c***o è stata difficile questa strike di partite quattro in finale prima abbiamo vinto il roll off prima abbiamo vinto il roll off ragazzi ha fatto davvero di tutto per mettermi contro le partite ha fatto di tutto per mettermi contro le partite il bianco grab ci volevo provare ma non mi fido adesso comincia accelerare che figlio di c***o al bianco brutale ma brutale ma brutale ma brutale brutale chissà un bastardo brutale inca brutale questa me la paghi brutale 3 7 3 7 3 7 3 7 3 Porca tronche sudati del cazzo Mi si ha bodybloccato col tizio mi ha bodybloccato raga non potevo farci niente 7 round mi si è messo davanti il tipo Signori comunque io direi che stiamo andando alla grande